Si potrà innanzitutto prenotare il farmaco anche con ricetta medica e quindi il cittadino avrà la certezza nel momento in cui si recherà in una delle nostre dieci farmacie comunali di trovare da subito il farmaco richiesto. Poi si potranno accedere a tutti i servizi a cominciare dalle promozioni che noi facciamo e che sono sempre molto interessanti dal punto di vista economico e anche dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il cittadino per approcciarsi a tutti quelli che sono i prodotti che all'interno del sistema delle farmacie comunali di Pesaro e di Gabicemare abbiamo. Ma poi insomma tutto quello che sono i servizi, insomma c'è la geolocalizzazione per cui nel momento in cui il cittadino ha la necessità trova la farmacia più vicina e diciamo che abbiamo aperto a questo mondo nuovo delle applicazioni telefoniche che ci permette di essere ancora più vicini ai nostri utenti, ai nostri cittadini dai servizi che possono essere migliori. Applicazione scaricabile su qualsiasi dispositivo? Sì, sì, su tutti i dispositivi, su Android e iOS e quindi diciamo che siamo così, siamo tecnologicamente avanti che è una cosa che volevamo già fare da qualche mese, il vari lockdown, insomma poi l'epidemia ci ha rallentato però adesso siamo operativi e si può scaricare farma, comunali, la trovate sulle due piattaforme. I tamponi quindi non saranno prenotabili tramite l'applicazione però rimane attivo il numero telefonico attraverso cui poterli prenotare? Sì, è così, chiamandolo 0721 37 24 73 è possibile prenotare sia il tampone che il test sireologico rapido. Proprio per quanto riguarda questi due nuovi servizi che da qualche settimana si possono effettuare in farmacia, come stanno andando, quali sono i numeri e i risultati ad oggi? Abbiamo dovuto implementare, vista la richiesta molto forte che c'è stata da parte della cittadinanza, il servizio, oggi all'oggi girano due farmacisti sulle nostre almeno quattro farmacie comunali giornaliere proprio per cercare di dare servizio capillare e puntuale in tutti i quartieri dove siamo presenti, compreso Gabicce. Abbiamo superato la somma tra test sireologici e tamponi rapidi, i 1200, abbiamo prenotazioni continue e costanti, è un servizio che la gente ha apprezzato tanto. C'è un continuo e costante richiesta di effettuare questo tampone che poi dà al 90 e passa per cento la certezza di averci preso. Considerate che tutte le persone che sono trovate positive e che poi vanno a fare il tampone molecolare, perché noi siamo collegati come sistema farmacie al sistema della piattaforma ASUR regionale che poi manda il richiamo, vengono quasi tutte confermate senza nessun tipo di problema nella positività purtroppo.